Oggi è la giornata mondiale della poesia e io meglio che a un poeta a chi mi posso rivolgere? Filippo Nibbi con le sue nebbie, con questo gatto che scelta il gatto. Poi anche il giorno è primavera. Il gatto del 21 marzo, giornata mondiale della poesia. Aspettando una poesia, mi piace il suo leggero raspare alla porta del giardino, anche se non so mai se è il vento o una poesia. Oppure il gatto, quando sono sia il vento che una poesia, allora è il gatto. Io Pippo veramente, per me sei veramente alcolizzato. Non dire gatto. Se non ce l'hai? Nel sacco. Chi lo diceva? Il grande allenatore. Trapattore. Non dire mulo. Se non ce l'hai, mulo.